tiffany è un prodotto molto semplice dal design estremamente pulito dove il concetto di base è quello è stato quello di ridurre al minimo il numero di elementi che caratterizzano proprio il design del prodotto stesso alla fine siamo riusciti a realizzare un prodotto con un unico elemento quindi un unico pannello e abbiamo portato l'aspirazione sul perimetro del prodotto quindi questo prodotto aspira completamente su tutto il perimetro quindi un prodotto largo 80 cm a 2 metri e 40 di aspirazione questa semplicità mette in risalto completamente questo prodotto questo pannello e anche il comando sta al di fuori del pannello quindi un comando sul vetro trasparente che al tocco attiva e disattiva le funzioni un pannello così semplice da un dal design pulito ed estremo può essere vestito con delle cover e può essere personalizzato e cambiare completamente il design del prodotto stesso